Salve e bentrovati a tutti. In questa breve lezione di presentazione parleremo un po' dell'introduzione all'urbanistica, cioè ci accorderemo su alcuni termini e alcune definizioni di base che ci serviranno per lo studio che andremo a svolgere in questo anno. Come prima cosa cerchiamo di dare una definizione al termine di urbanistica. Una delle definizioni possibili definisce l'urbanistica come la scienza che studia l'organizzazione e la pianificazione del territorio. Se notate la parola scienza è posta tra virgolette perché non possiamo intendere l'urbanistica come una scienza al pari della matematica, della fisica, che sono regolate da delle leggi univoche e dimostrate in modo assoluto. L'urbanistica non è un'arte, nel senso che è regolata da una serie di regole ben precise che fanno sì che la possiamo in qualche modo assimilare ad una scienza, ma non sono mai delle regole univoche nel senso che ogni singolo progettista poi potrà trovare delle soluzioni differenti. Però in ogni caso c'è un impianto regolamentare di cui tenere conto. Facciamo anche alcune precisazioni. Regioni, la prima delle quale dice che la legislazione urbanistica è oggi delegata alle regioni. Ora parliamo di legislazione urbanistica perché l'urbanistica di per sé non è un'attività estemporanea, è un'attività artistica, è un'attività delegata alla singola iniziativa di qualche privato, di qualche artista o di qualche associazione di categoria. L'urbanistica è regolamentata da delle leggi, ci sono degli obblighi di legge che fanno sì che i vari enti locali debbano per forza pianificare il territorio in un determinato modo. Questo modo è stabilito da delle normative, da delle leggi. Oggi la Costituzione italiana nel 2010, che è la data di questa registrazione, prevede che la legislazione urbanistica sia delegata alle regioni. A livello nazionale, prima della delega alle regioni, c'era una normativa che essenzialmente era la legge 1150 del 1942, detta legge urbanistica regionale, che è stata poi nel corso del tempo integrata e modificata con una serie di ulteriori leggi e di aggiunte. Oggi, allo stato attuale, ogni regione ha una propria legge, ha una propria normativa e anche la regione Umbria, che ha una legge, che è la legge numero 11 del 22 febbraio 2005. Bene, detto questo, vediamo la legislazione urbanistica, quindi la pianificazione del territorio, a quanti livelli può essere effettuata. Ci sono essenzialmente tre livelli. Il primo livello è un livello territoriale, quindi un livello ampio, che dà delle previsioni per zone di territorio molto grandi. Poi c'è un secondo livello, che è il livello comunale, che corrisponderà ovviamente ai confini dei singoli comuni, e un terzo livello esecutivo, per andare nel dettaglio. Cerchiamo adesso di approfondire un pochino questi tre livelli. Il livello territoriale oggi ha normalmente un ambito di intervento regionale. Anche la vecchia legge urbanistica 1150 del 1942 prevedeva la redazione di piani territoriali di coordinamento. Adesso oggi ogni singola regione ha magari modificato la sigla, però tutti prevedono ovviamente un piano generale, che ha confini normalmente coincidenti con i confini della regione, che va a pianificare il territorio per le cose fondamentali e per le cose comuni. Quindi conterrà previsioni che interessano l'intero territorio comunale al di sopra degli interessi dei singoli comuni, perché la normativa e le previsioni per i singoli comuni verranno previste da piani del livello inferiore. Facciamo alcuni esempi. strade di grande comunicazione, aeroporti, parchi, attrezzature di interesse generale. L'esempio delle strade forse può essere il più utile per capire di che cosa stiamo parlando. Chiaro che se una regione prevede la progettazione e la realizzazione di una strada di grande scorrimento che collega le varie province, è chiaro che il tracciato di questa strada non può essere deciso dai singoli comuni, ma ci vorrà un piano di livello superiore che prevede questa strada e poi ogni singolo comune dovrà adeguarsi. Il secondo livello è il livello comunale. Il livello comunale ha uno strumento principale che è il piano regolatore generale, previsto già dalla legge 1150 del 42 e confermato da tutte le regioni. Il piano regolatore generale riguarda l'intero territorio comunale, cioè con il piano regolatore generale viene pianificato, progettato l'intero territorio, cioè non ci possono essere zone del territorio che non sono previste dal piano regolatore generale, di cui il piano regolatore generale non prevede destinazioni d'uso o pianificazione in generale. La tavola principale, l'elemento principale del piano regolatore generale è la zonizzazione del territorio. Questo significa che ogni singola parte del territorio avrà una destinazione d'uso ben precisa. Ci saranno zone del territorio destinate a residenze, zone destinate a verte, zone destinate a attività agricole e così via. Però tutte le parti del territorio avranno una precisa destinazione d'uso. Il terzo livello è il livello esecutivo. Il livello esecutivo normalmente è in attuazione delle previsioni del piano regolatore generale. Vengono previsti degli strumenti esecutivi, cioè degli strumenti che vanno puntualmente a definire che cosa si può fare e non fare nelle singole proprietà, chiaramente in attuazione al piano regolatore generale. Quindi per ogni singola proprietà, per ogni singolo lotto, per ogni singola particella, noi tramite gli strumenti esecutivi potremo conoscere la cubatura realizzabile, il numero dei piani realizzabili, le distanze dei confini e quant'altro. Due esempi di strumenti attuativi previsti tra legge 1150 del 42, che poi magari alcune regioni hanno modificato o cambiato di nome, sono il piano particolareggiato e i piani di lottizzazione. Il piano particolareggiato riguarda le zone già parzialmente edificate, mentre i piani di lottizzazione riguardano le zone normalmente liberi o le zone quindi da edificare. Bene, ringrazio tutti per l'attenzione e alla prossima occasione.